Ciao a tutti, sono sottornata, eccomi qua, allora, oggi parliamo, visto che siamo proprio agli sgoccioli, di San Valentino. Allora, la festa di San Valentino non nasce come festa di San Valentino, come al solito è una festa che i cristiani, diciamo, hanno modificato a piacimento, mettiamola tra virgolette così, anche perché oggi come oggi, diciamo che la festa di Lupercaglia sarebbe vista, cioè la gente urlerebbe allo scandalo, c'era un po' di tutto, c'è chi dice Orge, c'è chi dice, si narra che appunto veniva preso un'ampolla, non so come definirlo, un contenitore, si mettevano dentro tutti i nomi delle ragazze del paese e poi praticamente i ragazzi sorteggiavano, soprattutto pare più coppie, c'è chi dice una sola e stavano insieme praticamente, c'è chi dice che le coppie stavano insieme per quella notte, e poi pare che ci sia proprio una coppia X che doveva portare avanti questa convivenza, questo convivenza, chiamiamola come volete, comunque per tutto l'anno per propiziare appunto l'abbondanza per quel che riguarda i raccolti, per quel che riguarda il bestiave, per quel che riguarda anche la fecondazione delle donne, eccetera, eccetera. Allora, diciamo che a febbraio, soprattutto verso metà febbraio, la natura inizia a esplodere, quindi iniziano ad esplodere, magari no, iniziano a ripartire, eccole, quindi le prime gemme, i primi fiori, quando noi avete visto, è fiorita già la mimosa, fiorita, se andiamo avanti così e l'otto marzo è sfiorita, diciamola tutta, però per ora abbiamo già la mimosa, abbiamo anche, non mi ricordo mai di morfoteca, come che si chiama l'altra, comunque, bellissimi, io odoro i fiori, quindi adesso, nonostante il freddo di quest'inverno, ci sono stati, sono andata a raccoglierne pochi, diciamola tutta. Poi, un'altra cosa che si racconta, appunto, che sempre per proteggere i bestiame, quindi i campi, i campi, il bestiame, dove venivano tenute tutte, non so, i greggi di pecore, di capre, quello che era, facevano dei sacrifici e delle, dei sacrifici, dove gli animali, e poi prendevano questo sangue e lo spargevano praticamente per, per le strade del paese, beh, questo qua propiziava il fatto che i lupi non andassero a mangiare il bestiame o a fare danni nei campi, quindi, a proteggere, diciamo, quello, quello che si aveva. Sbircio un po', perché adesso qua sto parlando di cose non proprio mie, e quindi, c'ho due appunti qua e là. Allora. Poi si dice anche, appunto, che i sacerdoti pagani, diciamo, non so come definirli, soprattutto nell'antica Roma andavano praticamente nella grotta dove la lupa aveva allattato Romo del Remo e lì, appunto, facevano questi sacrifici, poi, con la pelle di sto capretto, comunque, si, diciamo, si travestivano, forse da lì magari anche c'entra il carnevale, vate la pesca, e, e poi avevano dei cordini che non ho ben capito se erano fatti con, con la pelle della bestia, di questi animali, eccetera, e picchiavano, picchiavano, però le donne erano tutte felici, perché questo pare che propiziava il fatto che loro rimanevano feconde, perché in quel periodo c'era stato, diciamo, un calo delle nascite delle donne incinte, quindi erano felici di farsi picchiare con questi cordini di sta pelle, di questi animali addosso, praticamente. Allora, poi, vabbè, con l'avvento del cristianesimo, diciamo, questa cosa dove sesso, sacrifici, eccetera, non era tanto gradita, è diventato, l'hanno cercato pian piano di trasformarla in qualcos'altro, e da lì, praticamente, viene fuori San Valentino. Adesso, anche lì, ci sono più, più, più cose che parlano dell'origine di sta festa, eccetera, adesso io ho detto le due, diciamo, più principali. E San Valentino, esempio, anche lì, abbiamo parecchie storie che narrano di San Valentino, una, c'entrano le colombe, adesso io vi racconterò quella che c'entra la rosa, praticamente ci sono due ragazzi, c'è San Valentino, non so, nel suo giardino, non lo so, comunque passano per la strada due ragazzi, bisticciando, lei era cristiana e lui era pagano, e lui, praticamente, prende una rosa, gliela dà e dice di tenerla tra le mani insieme, di fare pace, di fare attenzione anche a non pungersi, gli dice. E sta di fatto che questi due ragazzi, passa del tempo, tornano da Valentino, che all'epoca, se non ero, era vescovo, per farsi sposare. Poi, appunto, questa cosa, ha fatto il giro del paese, diciamo che qualcuno era felice, perché finalmente, diciamo, era riuscito a creare amore tra un pagano e un cristiano, qualche d'uno no, e anche lì una parte della storia dice che poi San Valentino guarda caso, è morto il giorno di San Valentino, e un'altra dice che sono stati decapitati tutti e tre, adesso lì poi, non c'ero, non vi posso, non posso metterci la mano sul fuoco, obiettivamente. Vediamo un po' altre cose da dire. Ah, ecco, vediamo un po' se ho detto tutto di queste cose qua. Ecco qui, allora, ecco, questo sì, ecco, questo qui mi stavo, non ci pensavo più. Allora, invece, venendo a, chiamiamo, le tradizioni più conosciute, a San Valentino, diamo un occhio al cielo ogni tanto, e se vediamo passare un uccello, guardiamo che tipo di uccello è, quindi anche lì, se si vede passare un passerotto che vola, lì, ahimè, vi spetterà un marito triste, triste, vi spetterà un marito poverello, quindi, se siete in un posto con tanti passerotti che volano, non guardate il cielo, così magari avete l'opportunità di trovare un marito un po' meno povero, poi, se invece vedete passare, spero di che non volevo mescolarli, un cardellino, a quel punto lì, è facile che si trovi un marito ricco, se trovate, se vedete passare un gufo, quindi probabilmente sarà più verso sera, che non diciò, perché i gufi sono notturni, lì, ragazzi, siete zittelle, ve lo dico già, ho detto in modo moderno, single, comunque sempre zittelle, rimaniamo, non sto scherzo, eh? Poi, se si vede passare invece le rondini, vuol dire che avrete un'unione felice, e invece un pettirosso avrete un uomo giusto e onesto. Poi, ecco, un'altra cosa a tavola, se si taglia una mela a metà, questo per le donne, anche quelli di prima, tendenzialmente per le donne, e se si taglia una mela a metà, guardare quanti semi cadono, o quelli che sono un po' fuori dalla mela, adesso quelli che non si vedono, no, quelli che comunque cadono, contare quanti semi, soprattutto quelli che cadono, poi devono essere un po' fuori, perché se è rimasto tutto appiccicato dentro, vuol dire di no, quindi quelli che cadono e quelli fuori, teoricamente rappresentano quanti figli avrà sta fanciulla nella vita. Altre cose... Ecco, un'altra cosa, si diceva appunto che a San Valentino, al mattino uno si sveglia, e il primo nome che sente dire nell'arco della giornata sarà o l'uomo o la donna che si sposerà. Quindi, non so, io accendo la radio e sento dire... Ecco a voi, vi presento la canzone di Mario, probabilmente mi sposerò uno che si chiama Mario. Accendo la televisione, che ne so, mi parlano di... Non lo so, non mi viene in mente nessuno. Di Gerry Scotti, probabilmente mi sposerò uno che si chiama Gerry. Se cammino per la strada e sento... Cioè, il primo nome che sentite durante la giornata, teoricamente sarà il nome del vostro futuro sposo o sposa. Altre cose, vediamo un pochettino. Ecco, l'altra cosa, sempre se a San Valentino, se per strada si trovano due guanti uguali, vuol dire che avrete un'unione solida e felice. Se invece, ahimè, troverete un guanto da solo, adesso non è che capita tutti i giorni di trovare i guanti, però chi lo troverà, io ho avuto un periodo che trovavo una marea di guanti, quelli da meccanico, ma secondo me era mio padre che se li prendeva dalle officine, perché li vendeva macchine una volta. E so solo che noi troviamo guanti ovunque. Comunque, c'entra niente. E se trovate un guanto che sia... Un guanto, come si chiama? Quelli... Quelli da inverno, non so come dire, quelli di ranina, comunque che sia un guanto qualunque, se trovate un guanto solo, ahimè, anche lì probabilmente si rimane single. Direi che ho detto quasi tutto. Ah, ecco, nel discorso degli uccelli, mi sono dimenticata di dirlo, se si vede anche lì uno scogliattolo, chi il giorno di San Valentino incontrerà uno scogliattolo sulla sua strada, vuol dire che avrà un compagno, troverà un uomo comunque che sarà uno spendacione. Un'altra cosa che porta bene, soprattutto per le coppie, è essere svegliati da un bacio al giorno di San Valentino, porta proprio amore e unione nella coppia. direi che vi ho detto, credo, tutto, almeno quello che mi è venuto in mente su San Valentino, me lo sono scritto, perché poi io, sapete che la mia testa è un po' così, e mi ricordo quello che mi ricordo. Infatti prima ho detto mia mamma, e dice, eh, quello lì degli uccelli, se andate a rispolverare le vecchie tradizioni. Ok, vi saluto, tanti baci a tutti, ciao!